Cortina Sali Vai infrettati, è in silenzio Siamo parlo senza avere problemi Ok, via libera Luz, muoviamoci Non possiamo pensare ai colpi I camion ci guideranno al prossimo bersaglio Ben fatto, ora vieni qua Grazie, avete ancora compagnia State nascosti Ricevuto, Panther Qui dentro, B Libero, B Altre bersaglie Non sarà silenzioso Conte, B Sono finito Andiamo C'è l'olio Darcy, a rapporto Roger Da 15 a 25 nemici uccisi Camion segnati con gli infrarossi Torniamo dove abbiamo nascosto gli ATV Ben fatto, non perdiamo tempo Reaper 3-1 in volo Dobbiamo andare a Clementine Roger, B Vai avanti Tre bersaglie Non prendiamo le T nascosta Contenti Libero Libero Ecco le punizioni Dobbiamo le T Grazie a tutti. 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 È sottotiro. Lo termino. Negativo. Niente armi. Non combattente. Ok. Significa che non devi ucciderlo. Affermativo. Notte. Notte. Stato. Libero. Avrà un brutto mal di testa al risveglio. Radio. Ti muoviamo. Chimini. Due chilometri da Dorothy. Roger. Dacci un rapporto sala appena puoi. Mother Panther. Riceviamo segnali SIGINT attorno al vostro avamposto. Recenti informazioni danno postazioni al CAE dalle vostre coordinate. State attenti. Mantenete silenzio. Voodoo. Niente 60. Vino a una copertura sicura. Sì, mamma. Mother 3. A piedi. Ore 12. State giù. Fermi. Non siamo pronti. Rabbit aspetta il via. Fuoco. A guarda giù. Addio. E a terra. Stato. Due libero. Giù. Giù. Li distruggiamo. Sì. Negativo. Fatele passare. Siamo liberi. Vediamo dove vanno. A ore 6. Aspettate. Aspettate. Dove avanti. Don't calmate. Via. Giù la recta. Mi va a covalci Rabbit, aggirali Cinque tango Sei, sono in sei Facciamoli sconfiare Un voto, chiuda il grelletto Facciamo noi Rabbit, breccia Tre, due, uno Cora Versaio a terra Guarda, sei in sei Andato Libero Cazzo sei libero Che succede al fuoco? I loro esploratori lo fanno per comunicare Siamo compromessi La radio sta in pazzetto Hanno sentito qualcosa Non importa Andiamo verso Dorothy È l'avamposto, via Ripper Ecco che cosa li ha tirati A quanto pare abbiamo un aereo Jimmy, Mother Abbiamo una postazione contraerea alle nostre coordinate Roger Ripper 3-1, segnale contraerea in movimento verso Wolfpack Ok, in movimento per eliminare la postazione di fuoco Merda Forza, forza Versoglio a terra Via, granata Grazie 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 Morto Morto Versaglio a terra Morto Mantieni la distanza Contatto a destra Stato Via libera Rapid Fa fuori quel cannone Mettete in sicurezza Distruggi quell'arma Fala saltare da qua Forza Andiamo Mother Ripper 3-1 operativo È disponibile a giocare per 10 minuti Non protestiamo Grazie Infinite Ripper 3-1 Ripper 3-1 è nostro per 10 minuti Infrarossi accesi Bene Tarik non mentiva Questo posto pullola di cattivi Veicoli in fondo al pendio Ore 10 Ripper 3-1 Rileviamo con voglio di camion diretto alla nostra postazione Probabilmente ostili Bridger Voodoo Avanti Occhio agli esploratori Rabbit Noi pensiamo ai camion Noi pensiamo ai camion Noi pensiamo ai camion Mother Panther Usate i vostri nod Se vedete gli infradosi sui veicoli sono messaggi Gli infradosi non indicavano alleati Dovevamo improvvisare Ripeto Sono i cattivi Rapid Usa i sopland Rapid Grazie Grazie